Ciao, sono Dario di Alternativa Linux ed ecco la mia recensione di Linux Mint 20.2 UMA dopo settimane di utilizzo quotidiano. Una presentazione del progetto anche per chi non conosce affatto Linux, poi le principali differenze da Windows, gli scenari adatti, il primo impatto, le novità dell'ultima versione e come aggiornare da versioni precedenti. Inizio illustrando rapidamente il progetto anche a chi non conosce affatto Linux o magari pensa esista solo Ubuntu. Linux Mint è un progetto avviato nel 2006 con base in Irlanda. Si tratta di un sistema operativo gratuito ed open source basato su kernel Linux. La base effettiva di 3 su 4 delle edizioni in cui viene rilasciato prende il nucleo open source di installazione e funzionamento dalle versioni più stabili e più a lungo aggiornate di Ubuntu, le spoglia dell'ambiente grafico e di altre caratteristiche commerciali originarie e vi costruisce sopra un sistema operativo molto intuitivo per gli utenti Windows più di quello stesso di Ubuntu. Linux Mint è una distribuzione fornita in differenti edizioni con differenti ambienti grafici noti più uno tutto suo, Cinnamon, che prevede una serie di programmi e utilità appositamente sviluppati. Linux Mint, dicevo, strizza particolarmente l'occhio agli utenti abituati a Windows, offrendo una valida alternativa ad esso con semplicità d'uso e intuitività persino superiori, oltre ad un impatto inferiore a quello di Windows sulle caratteristiche del computer. Linux Mint ha infatti una distribuzione desktop di medio o basso impatto sull'hardware. Linux Mint Cinnamon è ideale per computer dotati di dual-core, meglio se Intel, di fascia non minima e con 4GB di RAM. Con un SSD e Linux Mint, rispetto ad una versione aggiornata di Windows, davvero puoi aspettarti risultati di chiari ringiovanimento. Se hai 2GB di RAM, se puoi espandila, altrimenti opta per le edizioni Mate, o meglio XFCE di Linux Mint. Linux Mint è un sistema operativo perfetto per rimpiazzare Windows nei computer in cui con il sistema Microsoft cominciano i segni di rallentamento. In un portatile, meglio se con piattaforma, Intel e anche Nvidia, puoi infatti aspettarti che la batteria duri il doppio rispetto a Windows 10, a parità di cose che ci fai, e l'ho documentato con molteplici prove a distanza di un anno. L'ambiente grafico dell'ammiraglia edizione Cinnamon deve piacere, ma non ingombra. Impiega circa 30MB di memoria RAM e meno di altri 20 per tenere in memoria le applet, raggiungibili dalle piccole icone sul lato destro della barra chiamata pannello. È personalizzabile in un discreto ventaglio di colori, combinazioni gradevoli e conteni scuri tra le tonalità più rilassanti per la vista dopo ore al computer. Il sistema completo, appena caricato, all'avvio può impegnare anche meno di 1GB di RAM prima di cominciare con le attività. Ma ovvio, se ci vuoi fare editing video, come me, pensa di averne almeno 8 o 16. Fissa dei responsabili del progetto è la privacy dei suoi utenti, che non sono mai tracciati in alcuna delle attività che compiono e che troveranno motori di ricerca rispettosi della privacy nella configurazione iniziale del browser Firefox con cui Mint è rilasciato. E si tratta di motori di ricerca che vivono di pubblicità, sì, ma senza tracciare le tue attività con la scusa di mostrare pubblicità più in linea con i tuoi gusti. In cambio, Linux Mint riceve corrispettivi per il traffico generato dai motori preimpostati in Firefox, e si sostenta di questo, di donazioni e sponsor. E per il massimo della privacy puoi anche disattivare la cronologia di file e cartelle aperti di recente. Puoi scaricare gratuitamente una delle edizioni di Linux Mint partendo dal sito ufficiale. Come anticipato è stata appena rilasciata la versione finale di Linux Mint 20.2, nome in codice UMA. Vi sono differenti edizioni, contraddistinte da differenze minime in quanto ad utilizzo, ma progressivamente più parsimoniose in termini di potenza richiesta. Il team di Linux Mint ordina ed escrive così le tre edizioni. Cinnamon. Elegante, moderna, innovativa. Mathe. Stabile, robusta, tradizionale. XFCE. Leggera, semplice, efficiente. Se vuoi approfondire, oltre questa ho pubblicato recensioni per Mint 20 e Mint 20.1. Ho inoltre pubblicato un articolo ed un video YouTube sulle differenze tra le edizioni di Linux Mint. Diciamo che puoi aspettarti alcuni programmi o gestione di impostazioni lievemente differenti e non omogenee tra le edizioni. Nel dubbio, con almeno 4GB di RAM ti consiglio di scaricare l'edizione Cinnamon. Quella più caratteristica è considerata l'ammiraglia. Ho scritto un tutorial e fatto un video sul tema di come procurarsi Mint e preparare un supporto di installazione. Un altro tutorial e video su come verificare la compatibilità prima di installare. Ma ho anche già pubblicato contenuti anche per l'installazione e configurazioni aggiuntive di Linux Mint. Se hai un SSD puoi aspettarti di completare l'installazione in 10 minuti ed impiegarne altrettanti per scaricare gli aggiornamenti fino a quel momento. Configura aggiornamenti, applica driver, pianifica se vuoi punti di ripristino del sistema come suggerito dal benvenuto o approfondisci anche nel blog, poi sei già pronto per fare di tutto. Perché è integrata nell'installazione la suite LibreOffice. Ci sono programmi di visualizzazione, un'organizzazione e ritocco di foto, per pdf, per la musica, un client torrent ed ovviamente un browser, Firefox ed un programma di posta elettronica Thunderbird. E nel centro software open source poi hai accesso a decine di migliaia di pacchetti e programmi per ogni tipo di esigenza. E se non direttamente dal suo gestore applicazioni, forse è installabile in altro modo. Al primo riavvio, dopo il completamento dell'installazione di Linux Mint 20.2 UMA, una schermata di benvenuto ti accoglie e ti guida alle prime impostazioni consigliate per la configurazione, personalizzazione e scoperta del nuovo sistema operativo. Se sei abituato a Windows, tutto è esattamente come ti aspetti e funziona come prevedi. Un menu start fornisce accesso a tutti i programmi installati, per impostazione predefinita e successivamente, secondo una struttura prestabilita ma modificabile a piacimento. E nel menu si trovano i collegamenti per aprire anche le singole impostazioni di configurazione . Se apri il menu e cominci a digitare il nome di un programma, una impostazione o un file aperto di recente, non hai neppure bisogno di sfogliare per poterlo aprire in un istante. Al canto al punzante start trovi le icone del programmi di uso più frequente e di quelli aperti. Nel menu c'è una colonna in cui puoi sistemare le iconi dei programmi o impostazioni di utilizzo più frequente, e puoi alzare il menu quanto vuoi per fare spazio. Sul lato destro del pannello, la barra, trovi le icone delle applet che richiamano funzioni come la gestione di connessioni di rete, audio, stampanti, bluetooth, stato di aggiornamento, e sono solo un assaggio selettivo delle ulteriori applet che sono preinstallate ma disattivate, e a numerose altre testate che puoi scaricare dal sito ufficiale delle spezie di Linux Mint. Se hai mediamente smaliziato e per chiudere una finestra ti viene istintivo Alt F4, prevedibilmente la finestra in piano piano si chiude. Oppure aprire una finestra del file manager con il tasto Windows più E, si apre il file manager nella cartella Home. Vuoi passare da una finestra aperta ad un'altra? Alt più Tab fa esattamente ciò che ti aspetti. Quando accedi al pannello in cui sono raccolte tutte le impostazioni, clicchi e puoi aspettarti per ciascuna una finestra suddivisa in poche schede e descrizioni rapide e semplicissime sull'effetto di ogni interruttore o parametro. Una pacchia di semplicità, efficienza e completezza senza fronzoli. E una volta che scopri che ad ognuna puoi accedere direttamente digitando nel menu la specifica impostazione, l'intervento è immediato. Dai un'occhiata al mio manuale d'uso di Linux Mint nel blog per scoprire altre caratteristiche e per sapere di poterci contare. Per le stampanti, se sei nella maggioranza dei fortunati, ti basterà collegarla perché questa sia rapidamente riconosciuta e posta in grado di stampare. Per gli scanner, anche integrati a multifunzione di stampa, serve un accorgimento in più per avere anche rapido accesso a possibilità notevoli di scansione. Da citare un'altra caratteristica specifica dell'edizione Cinnamon, come le Applet, i Desklet, che equivalvano a quelli che erano chiamati widget tanti anni fa in ambiente Windows e che consentono di mostrare ora il proprio calendario, il meteo, feed RSS, monitorare in tempo reale il sistema e tante altre funzioni. Le decine di migliaia di programmi testati sono riuniti in un centro software da cui si accede con una modalità grafica che niente ha a che vedere con i miti di essere un sistema riservato agli esperti. Accede ad un catalogo molto ampio e ben suddiviso di tutte applicazioni open source, gratuite e testate appositamente, grazie alla compatibilità con il catalogo di programmi di Ubuntu che è in grado così di sfruttare. Ma tale catalogo non esaurisce le possibilità di installare anche programmi non presenti e anche a pagamento per l'ambiente Linux. La piattaforma Wine inoltre consente di integrare l'installazione di software specifici per Windows come Office o taluni prodotti Adobe. Anche se non sono un fan di queste soluzioni e personalmente non porterei rischi di sicurezza di Windows nell'ecosistema Linux. Lasciare una partizione Windows e non chiedere a Linux di essere lo stesso che Windows si rivela una scelta azzeccata. Fin dall'uscita della versione 20 il team di Linux Mint non ha lavorato che al miglioramento di tale versione e lavorerà fino ancora tutto il 2022 solo su questo. La base di fonti software è quella di Ubuntu e dei programmi con esso compatibili, più una specifica di Linux Mint, e il kernel è nella versione 5.4. Dalla versione 20 ad oggi a Linux Mint e nello specifico all'edizione Cinnamon sono state apportate notevoli migliorie prestazionali al desktop che è stato interamente riscritto in linguaggio JavaScript. Il file manager è più rapido con i file multimediali e relative anteprima e consente da Mint 20.2 di effettuare ricerche testuali nei contenuti e non solo nel nome del file, anche con espressioni regolari attraverso il file manager Nemo, il quale guadagna anche proprietà di gestione di rinomina seriale di file, con uno strumento, Bulky, che può essere eseguito anche come applicazione a sé. E anche l'edizione Matè di Linux Mint vedrà questa novità nel file manager. Non è invece necessaria per Tuner, il file manager dell'edizione XFCE di Linux Mint che già lo prevedeva. Linux Mint 20 e successivi aggiornamenti prevedono la presenza di Hypnotics, un software per la visione di decine di migliaia di canali IPTV in chiaro e volendo a pagamento. C'è poi il sistema di scambio rapido di file da postazioni diverse purché connesse allo stesso router e compatibile con l'omonima applicazione per Android e cioè Warpinator. E una gestione semplificata da desktop per l'accesso a file e cartelle preferiti. Oltre ad un'utilità per eseguire specifici siti web di uso continuo come applicazioni specifiche, dotate di finestra e icone. Si tratta di applicazioni web. Dalla versione 20.2 UMA Linux Mint prevede una differente gestione degli aggiornamenti per l'edizione Cinnamon. Il gestore di aggiornamenti adesso mostrerà anche aggiornamenti di temi, desklet, applet e altre spezie, come sono chiamate le personalizzazioni del desktop dell'ambiente grafico Cinnamon. Un'altra novità riguarda un meccanismo per sollecitare di applicare aggiornamenti di sistema e sicurezza in alcune condizioni di utilizzo, senza però tracciare le attività dell'utente o rischiare di diventare troppo invadente. Come si fa a non avere simpatia per tanto riguardo alla privacy? Il tuo computer è tuo, non nostro, ha detto di recente il fondatore e responsabile del progetto Linux Mint Clément Lefevre. E così, tra le opzioni di automazione e degli aggiornamenti, puoi scegliere se lasciarti mostrare notifiche solo per aggiornamenti di sicurezza del kernel ed altre opzioni, con valori preimpostati ma modificabili. Oppure per pianificare il comportamento da adottare in base all'uso e alla data di rilascio dell'aggiornamento. Il gestore aggiornamenti ora consente anche opzioni di automazione per l'aggiornamento di flatpacks, programmi installati in versione come congelata e accompagnata da qualunque file necessario al funzionamento. Altra novità di Linux Mint 20.2, l'ho già citata, riguarda una nuova funzione del file manager, ma raggiungibile anche tramite apposita app dal menu. Si chiama Bulky ed è uno strumento per la rinomina in serie di file. Basta selezionare file multipli nel file manager per accedere all'opzione di rinomina dal menu contestuale che si apre con il pulsante destro del mouse. L'applicazione predefinita per prendere note sul desktop è stata sostituita rispetto a Gnot ed è ora Sticky Notes. In aggiunta alle funzioni che erano disponibili in Gnot, Sticky consente anche di posizionare singole note sul desktop e di gestirle tramite apposita applet nella parte destra della barra chiamata pannello. Con l'edizione 5.0 di Cinnamon, come accennato, il file manager Nemo guadagna la funzione che consente ricerche di termini presenti nei testi all'interno di file testuali, ovviamente, e non solo nel nome del file. Ed è possibile ricorrere ad espressioni regolari, formule anche complesse che consentono una ricerca molto mirata di dati. Si tratta un po' di una integrazione di talune funzioni del comando grep in versione grafica. Nelle preferenze del file manager, inoltre, una nuova opzione consente di ordinare i preferiti prima di altri file. Circa performance e utilizzo di risorse, il team di Mint annuncia che 5 problemi di memoria sono stati risolti in Cinnamon 5 ed è stato implementato un nuovo monitor per individuare e gestire casi in cui il desktop richiede troppa memoria. Ricorrendo alle impostazioni di sistema, adesso puoi limitare il massimo quantitativo di memoria RAM per l'ambiente desktop, oltrepassato il quale Cinnamon verrà riavviato istantaneamente senza perdere nulla delle attività che si stavano compiendo. Si noterà solo un riposizionamento della freccia del mouse al centro dello schermo. Anche il riconoscimento e conseguente adattamento a cambiamenti relativi all'alimentazione è stato migliorato. Gli utenti di Linux Mint 20 e 20.1 avranno trovato a partire dall'8 luglio un aggiornamento al gestore aggiornamenti stesso, che preclude la scoperta, nel menu sotto la voce modifica, dell'opzione aggiornamento a Linux Mint 20.2 disponibile. Dario, io uso già Linux Mint, mi conviene aggiornare? In linea di principio direi che sia sempre conveniente procedere aggiornamenti minori di versione, come passaggi da Mint 20 a 20.1 o 20.2. La base del sistema è la stessa e sono aggiunte solo migliorie. Qualche cautela la adopererei casomai per passare al primo rilascio di una versione completamente nuova, con kernel e basi software differenti, perché qualche problemino nell'immediato potresti incontrarlo, e potresti attendere il rilascio di una versione minore .1 o successiva. La procedura di aggiornamento a Linux Mint 20.2 è simile a quella già adottata per l'aggiornamento a Linux Mint 20.1. Dopo aver illustrato in alcuni passi l'opportunità di effettuare uno snapshot, cioè un punto di ripristino del sistema, di verificare le note di rilascio per scongiurare di andare incontro a nuovi problemi legati al proprio hardware, alcuni cicli di scaricamento dati e installazione richiedono al massimo 10 minuti per il completamento e per poter riavviare il sistema con la nuova versione. Si ritroveranno programmi e impostazioni precedenti senza soluzioni di continuità. Solo alcuni file di configurazione vengono sovrascritti. Io ho dovuto reinserire i DNS di Google nelle impostazioni della scheda di rete e ho ritrovato gli archivi software resettati con la necessità di rimpostare quelli locali, più vicini, senza alcun'altra anomalia. Una serie a recensione deve anzitutto indicarti per quali scenari hai da valutare e in quali altri puoi preferire altro. Io non so per cosa possa interessarti eventualmente Linux Mint, potrebbe essere per te, anche per il computer principale, per provarlo affiancandolo a Windows, oppure per dare qualche anno in più ad un portatile ormai inadeguato a Windows. O ancora, se ti interessa per rimettere in sesto il computer di qualche parente o amico da risistemare una volta ogni 5 anni, con già tutto o quasi ciò che serve a fine installazione, che si aggiorna da solo e in cui puoi installare anche programmi per fornire assistenza remota se vuoi. Se non conosci DistroWatch, si tratta di un autorevole sito dotato di un super database aggiornatissimo delle possibili variazioni di sistemi operativi basati su kernel Linux ed è noto per pubblicare una classifica delle schede delle singole distribuzioni più consultate. Se tiri fuori i dati per anno, scoprirai che la scheda di Linux Mint è stata ininterrottamente la più vista per anni, strappando il titolo a Ubuntu dalla cui base si distacca, per scelte divergenti con le maggiori implicazioni su politiche commerciali della società Canonical che fa capo a Ubuntu. In un computer con almeno 4 GB di RAM, nel passare da un'edizione aggiornata di Windows a Linux Mint sembra di liberare il computer da tanta zavorra. Linux Mint è un progetto aggiornato, affidabile e in ottima salute, spesso considerato l'approccio più conveniente da Windows a Linux anche su stampa ed editoria internazionale. E gli aggiornamenti, gratuiti come il sistema operativo, sono garantiti per 5 anni dal rilascio. E prima di tale scadenza sarai comunque stato invitato ad aggiornare ad una versione più recente del sistema. Io credo di essermi mostrato sportivo nel post e nel video recente in cui consiglio 8 tra le mie preferite versioni di Linux adatte a chi vuole lasciare Windows, Microsoft e Google. E nonostante questa recensione sia naturalmente più estesa di altre, non resterà l'unica relativa a distribuzioni Linux che curerò. Linux Mint è un esempio di distribuzione pronta all'uso e coniuga una ricca dotazione di software open source preinstallato con la disponibilità di driver e programmi di terze parti. Queste garantiscono un utilizzo immediato di schede grafiche e la riproduzione di file multimediali di ogni genere. Sono inoltre intagati driver proprietari per il supporto nativo di stampanti HP e un programma per effettuare scansioni. Uno dei maggiori punti di forza di Linux Mint è la sua comunità, molto attiva, generosa, spesso interpellata e molto ascoltata dai responsabili del progetto che assecondano richieste di miglioramenti e nuove funzioni. Le ragioni per scegliere Linux Mint sono la sua diffusione, la quantità di documentazione presente in rete e la grande disponibilità dei suoi utenti a rispondere a domande e risolvere problemi nell'attivissimo forum di cui esiste una sezione anche in lingua italiana. Chi padroneggi l'inglese potrà con certezza trovare soluzioni per qualunque esigenza già con una ricerca web. Linux Mint Cinnamon è il mio sistema operativo da circa cinque anni e mi ha consentito di soddisfare qualunque esigenza per lavoro sviluppo di applicazioni, siti web, grafica e multimedialità con il solo ricorso ad applicazioni open source. Non uso più Windows da anni. E se gli ho dedicato un blog già aggiornato a Linux Mint 20.2 nei contenuti e poi un canale YouTube dedicato anche a Linux in generale è perché è ovvio che io lo consideri un progetto affidabile. E c'è pure un mio libro in uscita sulla scoperta, installazione, configurazione e uso di Linux Mint, entro fine estate direi. Verifica nella descrizione del video se ho già aggiornato le informazioni. Linux Mint è perfetto per installazioni durature e stabilità. Se vuoi desktop più complesso o hai hardware molto potente e recente e se vuoi programmi Linux nelle versioni più aggiornate, meno. In questo caso devi rinunciare a cinque anni di tempo di aggiornamenti e supporto dopo il rilascio e optare casomai per distribuzioni come le versioni intermedie di Ubuntu e sue derivate, che ti costringono a cambiare versione dopo meno di un anno ma con maggiori possibilità di far funzionare hardware più recente perché hanno un kernel più recente e ciò potrebbe consentire di sfruttare meglio i PC performanti e la possibilità di usare i medesimi programmi in versioni più recenti. Dario, si vede che sei di parte e privilegi Linux Mint ad altre distribuzioni Linux. È verissimo e non ne faccio mistero. Non credo di avere obblighi di par condicio per altro. Linux Mint, non Ubuntu, Kubuntu o altri è il mio sistema operativo da quando l'ho scoperto. Non c'è classifica sulle varianti Linux per principianti che non metta Mint in testa o quasi. E do la missione di incoraggiare l'abbandono possibile di Windows per non aver niente a che fare con i colossi dei dati personali. E anche io, e non sono solo, credo che Linux Mint sia il modo migliore per fare il salto. Senza mica necessariamente fermarsi stabilmente come ho fatto io, ma di fronte ad un orizzonte di alternative possibili da cui separano solo la curiosità, voglia di scoprire e gusti personali. Come accennato, una ragione in più per provare Linux Mint è quella di avere a disposizione un sacco di risorse gratuite nel blog e nel canale YouTube per imparare a farci di più e un testo con contenuti non presenti altrove. Ti ricordo la pagina principale del canale youtube.com slash c slash alternativa Linux. Trovi i video pubblicati da un anno, suddivisi per playlist o consultabili cronologicamente. La home page del blog alternativalinux.it. I contenuti sono ordinati in modo cronologico, ma la guida Linux Mint, un percorso di tutorial nel blog e video YouTube, incorporati anche nelle pagine web alla scoperta, installazione e configurazione di Linux Mint e il manuale d'uso di Linux Mint, meritano un'occhiata. Grazie per aver visto il video e alla prossima. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.